Buongiorno a tutti Buongiorno Oggi giornata un po' di relax perché siamo un pochettino stanchi però vogliamo condividere con voi due cose bellissime Siamo sempre nella regione di Retimno oggi vi faremo vedere un paesino che è splendido ha una bellissima spiaggia, una baglietta incantevole e è Placias Buongiorno Puoi esserci goduti una bella mattinata a Placias ora ci dirigiamo a Prevely Beach quindi potete farla anche voi questa coppiata perché Prevely è qua vicino e ricordatevi che Prevely è una delle spiagge più belle di Creta quindi sicuramente meriterà una visita ma vi diremo più tardi più che altro vi faremo vedere delle belle immagini ma fa poco allora quando si arriva a Prevely Beach c'è un parcheggio a pagamento 2 euro ma prezzo è onesto poi dal parcheggio a pagamento parte un bel sentierino fino ad andare alla spiaggia quindi scarpe comode ma buongiorno e buongiorno poi poi ci metà ci Grazie a tutti. Grazie a tutti. Le spettacolari tre rocce sul mare. Grazie a tutti. Eccoci qua ragazzi, siamo alla fine di questo video. Per beccare le rocce non beco la Nina. Poi noi abbiamo deciso di venire a Triopetra. La spiaggia è selvaggia. Ci sono anche le tini e gli ombrelloni. Certo, quelle tre rocce là sono stupende da vedere. Unico inconveniente per venire qua c'è una strada curve, curve, contro curve. Creta è un po' così. Però per vedere le spiagge belle bisogna camminare in macchina. A noi ci è piaciuta anche questa spiaggia e ve la consigliamo lo stesso, soprattutto per passare una bella serata. Ciao ragazzi, se vi è piaciuto questo video, cosa dovete fare? Scrivetevi al canale, alla canale, alle canale. No, scrivetevi alle canale e poi mettete anche le tegole su te. No, questo è poi cancello. Questo è cancello. Guardate i nostri video su Creta per sapere di più su Creta. Al prossimo video. Ciao!